Trattorista dell'anno è una competizione che deve mettere in risalto le capacità di guida e di abilità nell'utilizzo di trattori e macchine agricole nell'ambito di una manifestazione competitiva. La prima era una prova con un trattore con dietro una botte a tre assi dove bisognava fare una ginkana in mezzo a un percorso e da qui si vedeva l'abilità del trattorista nel fare le manovre. Ultimo! Un trattore doveva percorrere un percorso all'interno di birilli e gomme e doveva andare ad agganciare un attrezzo, spostarlo e riandare a depositarlo dove è stato raccolto. L'ascile che si raffetano nell'amore Il riso è quello che resta quindi ordinariamente e doveva andare ad agganciare un'estitio e che si raffreste e che si raffreste con una campagna con una campagna e che si raffreste Poi avevamo la terza prova dove avevamo un telescopico, dove il concorrente doveva caricare delle casse di ferro, riaccatastarle e riportarle al punto di partenza. Per l'ultima prova abbiamo avuto una prova di aratura in campo dove il concorrente è stato misurato sull'abilità nelle entrate, nelle uscite del campo, sulla profondità di aratura. Per l'altro gradino del podio, Ricci Simone! Per l'altro gradino del podio, Cini Davide! Al primo posto, Alle Greppi e il d'Arto! Quello che avete appena visto è stato il video recap del Trattorista dell'Anno. Ringrazio Manchester Railborg per avermi concesso l'opportunità di girare questo video. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e lasciate un commento qui sotto. A questo punto, per non perdervi tutti i prossimi contenuti e specialmente il video che uscirà su Agritecnica 2019, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Alla prossima! A presto! Grazie a tutti.